Cosa pensi quando una tua amica si laurea con 110 elode? Probabilmente sei ammirato e riconosci la sua intelligenza. Cosa pensi invece quando sei in vacanza e noti che un turista non lascia la mancia al ristorante? In questa situazione, potresti pensare che questa persona potrebbe non essere socialmente intelligente, cioè non comprende le norme sociali o il comportamento appropriato in quel contesto culturale specifico. E cosa succede quando qualcuno ti confida le proprie emozioni e spiega il motivo per cui si sente in un certo modo? Hai l'opportunità di entrare in sintonia con la sua intelligenza emotiva. Questo significa comprendere le sue emozioni, gestire relazioni interpersonali con empatia e comunicare in modo efficace. Mentre l'intelligenza accademica riguarda la conoscenza delle materie accademiche, l'intelligenza sociale o emotiva coinvolge la comprensione delle persone. La gestione delle interazioni sociali e la consapevolezza delle emozioni proprie e altrui. Con le giuste abitudini, puoi diventare più intelligente sia dal punto di vista accademico che emotivo o sociale. Ecco quindi 5 abitudini che ti aiuteranno a raggiungere questo obiettivo. Prima di parlare delle 5 abitudini che ti aiuteranno a raggiungere questo obiettivo, ti ricordo di iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche. Curiosità La curiosità non uccide il gatto, ma alimenta la tua mente. Sei sempre alla ricerca di risposte alle domande che ti vengono poste? La curiosità è collegata a una migliore memoria e capacità di apprendimento. Quando sei curioso, il circuito della ricompensa nel tuo cervello si attiva, aumentando le tue probabilità di apprendere e conservare informazioni. La curiosità ti rende appassionato e interessato a un argomento, rendendo più facile memorizzare informazioni su di esso. Esercizio mentale La lettura è per la mente ciò che l'esercizio è per il corpo. Leggere di più migliora le tue capacità di lettura e ti permette di acquisire conoscenze più complesse. La lettura non solo ti rende accademicamente intelligente, ma può anche renderti emotivamente intelligente. Leggere narrativa letteraria aiuta i lettori a comprendere meglio le emozioni degli altri, consentendo loro di approfondire la comprensione delle persone e pensare criticamente su di loro. Empatia Il pensiero creativo e il vocabolario sono entrambi sviluppati attraverso esercizi mentali come la lettura. Scrivere i tuoi sentimenti ti aiuta a svuotare la mente da pensieri negativi. Tenere un diario migliora la tua capacità di memoria di lavoro, poiché sei costantemente spinto a riflettere sugli eventi recenti della tua vita e sulle loro implicazioni logiche. Inoltre, scrivere un diario ti consente di esprimere le tue emozioni in un ambiente sicuro e autodiretto, permettendoti di diventare più consapevole di come ti senti e pensi. Ascolto attento! La meditazione enfatizza l'essere consapevoli di ciò che stai pensando nel momento presente. Studi hanno dimostrato che i meditatori a lungo termine hanno una maggiore materia grigia nella parte frontale della corteccia cerebrale, che è coinvolta nelle decisioni esecutive e nella memoria di lavoro. Essere consapevoli dei tuoi pensieri mentre mediti ti aiuta a sviluppare la memoria di lavoro, che influisce su diverse funzioni cognitive, come la comprensione del linguaggio e la risoluzione dei problemi. Osservazione delle persone Presta attenzione alle interazioni e ai sottili segnali sociali. Questo ti aiuterà a comprendere le norme sociali non esplicitamente dichiarate in una comunità. Osserva come gli altri si comportano e cosa dicono per poter leggere i loro pensieri e i sentimenti. Sviluppa l'abitudine di osservare le interazioni tra persone di diverse culture ed etnie, in modo da essere culturalmente consapevole e sensibile. Ricorda che l'intelligenza non si limita solo all'ambito accademico, ma abbraccia una vasta gamma di competenze e abilità, tra cui l'intelligenza emotiva e sociale. Coltivando queste abitudini, sarai in grado di arricchire la tua comprensione del mondo e delle persone che ti circondano. Quindi, abbraccia la tua curiosità, allenati mentalmente attraverso la lettura e la scrittura, coltiva l'empatia e l'ascolto attento, e sviluppa la tua consapevolezza delle dinamiche sociali. Con ogni passo che fai in questo percorso di crescita personale, sii orgoglioso dei progressi che compi. Ricorda che l'intelligenza è un viaggio continuo, e tu hai il potenziale per diventare sempre più intelligente, sia a livello accademico che emotivo. Se questo video ti è piaciuto ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche. Ciao e al prossimo video!